Per la parità tra uomini e donne bisognerà ancora aspettare un secolo. È quanto emerge dal Global Gender Gap Report 2020, stilato dal Forum Economico Mondiale. E anche se la situazione è migliorata rispetto all'anno scorso, il divario si è leggermente ridotto, i progressi sono piuttosto lenti. Euronews ne ha parlato con l'autrice del rapporto. Diversi fattori sono in gioco, in primis il fatto che i ruoli, le professioni, i lavori, i metodi per guadagnare che andranno per la maggiore in futuro, sono quelli nei quali in realtà i talenti femminili sono meno rispetto a quelli maschili. Ad esempio, quando si tratta di professionisti del cosiddetto cloud computing, la nuova informatica, solo il 12% sono donne. Tra i professionisti dell'intelligenza artificiale, circa il 26% sono donne. Quando si tratta di ingegneria, il 15% sono donne. Quindi qui la differenza di genere è ancora elevata. Eppure alcuni paesi sono riusciti a superare molte sfide e ostacoli, in particolare quelli del nord Europa, che guidano la classifica, come dimostrato qualche giorno fa dal nuovo governo finlandese tutto rosa di Sanna Marin. L'Islanda è il paese che ha chiuso il divario complessivo all'87,7% seguita da Norvegia, Finlandia e Svezia. E l'Italia dove si posiziona in merito alle pari opportunità? Se lo scorso anno era risalita dall'82 al 70 posto, quest'anno il bel paese perde 6 posti, chiudendo 76 esimo su 153. L'Europa occidentale in generale ha ormai colmato il 77% del suo divario di genere. Ciò significa che ci vorranno altri 54 anni per annullarlo, 7 in meno delle precedenti previsioni.